Cioè, siamo partiti dalla sicurezza e che sia il numero uno, non c'è discussione. Che manchi però anche un po' la lettura di quello che è diventato il mondo del lavoro. Voi ne tutelate un pezzo e poi là fuori c'è un mondo del lavoro che ha altre logiche, che ha altri bisogni. Siete sicuri di interpretarlo fino in fondo, questa contemporaneità l'ha interpretato fino in fondo? Non c'è niente di più da fare? No, no, io penso che ci sia tutto da cambiare. Io non sto dicendo che va tutto bene, anzi sto dicendo esattamente l'opposto. Ma il ragionamento che faccio è che la precarietà che per legge è stata realizzata, con una quantità di rapporti infiniti, insisto, questa logica dell'appalto, del subappalto e del sottappalto riguarda qualsiasi attività. Cioè, siamo arrivati alla follia, mi permetta, che adesso se vai in un ospedale puoi trovarti in un pronto soccorso non dei medici dipendenti del servizio sanitario, ma dipendenti di una cooperativa o di qualcos'altro. Allora io dico, bisogna fermarsi, perché questa logica qui sta portando indietro la qualità del nostro paese e anche tra le imprese questo determina una competizione a ribasso. Perché vuol dire che tu non premi le imprese che fanno innovazione, che fanno qualità, ma premi gli altri. Noi stiamo chiedendo al governo da tempo, l'avevamo chiesto anche ai governi precedenti, di introdurre una patente a punti. Le imprese che ricorrono agli appalti devono essere imprese che garantiscono. Se sono imprese che hanno avuto infortuni, che non hanno rispettato norme, non debbono partecipare agli appalti pubblici.